Leggendo la macchia umana si è catapultati nel 1998, l'anno in cui Bill Clinton disorienta l'America. Sappiamo tutti cosa successe, America Levinsky parlava troppo. Il protagonista parlando della vicenda si chiede se non riesce a capire Monica Levinsky come puoi parlare con Saddam Hussein? Il protagonista è Coleman Silk, è un professore di letteratura antica in un college di cui è stato anche preside. Questa materia pervade il romanzo, ci sono continui riferimenti alla mitologia e la letteratura classica. L'Iliade è il libro preferito del protagonista e nasce da una lite, nasce da un litigio e c'entra una donna. Coleman Silk, il protagonista, è l'uomo realizzato, apparentemente inattaccabile, invece a un certo punto cade nella macchina del fango, viene colpito dai nemici che creano di lui una falsa immagine e questo avviene per due volte. La prima volta viene accusato ingiustamente e assurdamente di essere razzista perché è apostrofa con una parola che in italiano viene tradotta come spettri mentre fa l'appello abituale due alunni che non si sono mai visti a lezione e che lui lo scoprirà dopo l'accusa che gli viene fatta, sono di colore. Il termine inglese è spooks, è un termine mutuato da Shakespeare, una citazione che significa spettri ma in gergo significa negri in senso dispregiativo. Quindi per l'ottusità, per l'ignoranza, il cinismo dei nemici che lo circondano, che poi sono gli stessi professori del college che lui ha ribaltato come un calzino di cui è stato preside, che ha curato in modo ineccepibile. A causa loro lui alla fine soffre nell'aspetto, si presenta con la faccia scavata, deformata dalla sofferenza, lui che era bello, che aveva la bellezza degli attori, ha gli occhi verdi, le ciglia lunghe e abbronzato. I colleghi sono vili, traditori, lottacciano di ebreo, bianco e razzista senza conoscere il suo segreto, che io non voglio dire. L'unico problema sembra essere la rappresentanza, non il merito. Lui invece aveva premiato il merito nei colleghi quando era stato preside. Coleman sì che è un uomo coraggioso, costruttivo e viene distrutto e portato ad odiare i suoi aguzzini, consumato dalla rabbia, dalla misantropia. Coleman racconta la sua storia al vicino di casa, il suo deuteragonista, lo scrittore con un cancro alla prostata che si chiama Nathan Zuckerman, che non è nuovo a chi ha letto altri libri di Roth e deve raccogliere la sua testimonianza, deve scrivere il libro sulle assurdità dette sul suo conto che restituirà la vera storia di Coleman. Addirittura a un certo punto Coleman e lo scrittore ballano il foxtrot e lui pensa speriamo che non passi nessuno. In questo ballo c'è tutta la spensieratezza, la gioia di essere vivi. Coleman consegna a Nathan Zuckerman il suo scritto con il quale si libera e dopo riesce anche a giocare a carte, a parlare di donne con lui, le donne che sono state così importanti nella sua vita. Le donne che ha amato sono sostanzialmente quattro. Stina, che conosce quando lei ha 18 anni e lui ha 20, è una donna bellissima come poi tutte, altissima, statuaria e lui conserva una sua lettera che termina con Abbi cura di te ed è velata di una tristezza autunnale e ci fa sospettare che il loro amore, finito per una mancanza di coraggio da parte di Stina, di fronte al segreto di Coleman, non sia forse mai finito. Con Stina Coleman era stato bravo, lei dice come gli uccelli che si tuffano su qualcosa che scoppia di vita per afferrarlo. E se Stina avesse detto ok, se Stina avesse detto sì davvero, Coleman avrebbe vissuto un'altra vita. Questo c'è sempre, c'è sempre la vita che può avere diverse ripercussioni a seconda di coraggio che abbiamo. Coleman sposa invece Iris, che è figlia di due ebrei, due ebrei che celebrano la giornata dedicata a sacco e vanzetti e Iris non sa se siano matti o visionari. Da loro è stata levata, ha i capelli lanuginosi, afro e con Iris torna l'ambizione di Coleman, ritorna sul ring, lui è un pugile. Lei è una grentosa, inarrestabile che posa nuda, è un ebrea non ebrea, al contrario di Stina che è bianca e conformista. E tra Stina e Iris ci sono cinque mesi con Ellie, una spumeggiante ragazza di colore che ride, che ha gambe bellissime. Quindi la moglie è Iris. Coleman con Iris ha quattro figli ed è proprio la moglie che dopo 40 anni di matrimonio, senza conoscere il segreto di Coleman, muore. Proprio lei che lo avrebbe accettato, che aveva larghezze di vedute, però con lei lui non lo svela. Il segreto di Coleman è un suo aspetto che lui cela, ma non perché per lui costituisca un problema. Potrebbe invece costituire un problema per gli altri. A lui celare questo aspetto di se stesso dà la libertà di essere libero, consente di vivere una vita libera. In Marina ha imparato a presentare una buona e coerente visione di se stesso per non suscitare domande e nessuno gliele fa queste domande. Quindi lui vive per oltre 50 anni senza dire a nessuno o quasi questo segreto. La moglie è una pittrice, una poetessa impegnata politicamente, un ciclone di donna. È con lui a fianco a fianco per combattere l'ingiustizia ed è lei che muore, muore dopo un feroce mal di testa, il braccio diventa insensibile e quindi è anche lei vittima di questa ingiustizia. E poi arriva Fonia Farley che è un po' la Monica Levinsky di Coleman e con Fonia lui rinasce. Coleman ha questa relazione con una donna definita infiammabile e lui ha 71 anni, lei ne ha 34. Quindi una relazione passionale, molto... il sesso è una parte essenziale dell'essere uomo, ma lo vivono in modo pieno entrambi. Lei è stata vittima prima del patrino, poi del marito. I figli sono morti in un incendio in casa mentre lei era fuori in macchina con un uomo. Quindi questa relazione con una donna piena di drammatici eventi e con un'età così diversa, lei alla metà dei suoi anni, lo porta a chiedersi ma cosa vuole lei da lui? Lei vuole compagnia, cultura, sesso. Lui prende il Viagra e si sente un po' come Zeus con questa ragazza bella. Quindi lui è un uomo settantenne, col cervello che trabocca di vocaboli di due lingue antiche e lei è una ragazza bella, forte, forte dei suoi 34 anni, analfabeta almeno inizialmente ci viene detto questo. Lui la guarda mungere con gli stivali e gli shorts, vede queste gambe belle, abbronzate e ai brividi per questa doppia vita con questa bellezza così. Lui la chiama voluptas. Quindi lei è una donna sana, nel pieno degli anni, bionda, con gli occhi celesti, le gambe magre, soda. Per lei il sesso e il tradimento sono forse quotidiani come il pane. Siamo appunto in questa estate dell'impeachment, è caldo, c'è questa stalla. Lui con lei rinasce e nel racconto al deuteragonista c'è tutto il sollievo di non tenere solo per sé questa rinascita. Lui è in adorazione, in una pienezza sensoriale con questa donna che lo appaga e lo porta a dire che alla fine niente dura perché niente passa e niente passa proprio perché niente dura. Non dura neppure questa bella e salvifica storia che Coleman ha con Fonia perché qui arriva il secondo colpo basso, la seconda cattiveria da parte dei suoi nemici. Mentre lui è qui che si butta negli istinti primordiali, libero, appagato e la bionda e soda Fonia vorrebbe volare come le cornacchie che osserva e con cui parla. Lei sfruttata da tutti tranne che da Coleman arriva questa Delphine Roux che è una giovane e ambiziosa professoressa che lo odia e la cui vita è una battaglia contro quelli come Coleman e lo vuole rovinare e manda un messaggio anonimo in cui dice tutti sanno, comincia con tutti sanno e svela la storia che lui ha con la donna delle pulizie del college che è Fonia. Coleman è uno che ha fatto la guerra, è un lottatore, tira di box, corre e studia e deve lottare, lottare ancora per questa ingiustizia. Ritiene il ridicolo doversi legittimare, lui non ha fatto nulla di male, Fonia e Coleman sono alleati tra loro e proprio il dolore che entrambi hanno vissuto si era grumato in questa passione e loro vivono in questa sorta di paradiso terrestre in un mondo tutto loro fatto di non terrestri passionalità. E' bellissimo questo rapporto, lui la porta a un concerto, vuole che lei ascolti Rachmaninoff, ballano nudi in questa casa bianca con le persiane nere e hanno una vita fatta di sesso, di intimità, di complicità e quindi arriva questa terribile ingiustizia e poi c'è un incidente, loro muoiono. Nel libro leggiamo di entrambi i funerali perché avvengono in due orari e luoghi differenti, tanto che Zuckerman, il deuteragonista, partecipa ad entrambi in un giorno caldo di novembre e noi ovviamente andiamo con lui, ci commuoviamo con lui al funerale di Coleman in cui viene suonato Mahler. Di Coleman Stink si ha una sorta di pubblica lapidazione con un elogio funebre online che lo mostra a quale noi sappiamo benissimo non essere come un misogino razzista e invece nell'elogio funebre in presenza pubblico insomma fatto dai figli si cerca di rivalutarlo come professionista, come uomo probo. Lui prima ha telefonato ai figli prima di morire e ha detto loro di aver lasciato questa donna perché non vuole perdere i suoi figli. Ma queste sono conversazioni insopportabili, non riesce ad avere la loro comprensione. Addirittura i figli sono sollevati che lui sia tornato contento, il figlio è contento che il padre abbia preso questa decisione. Ma lui è sconvolto dal fatto che i figli credano a queste voci false che circolano su un aborto, su un tentato suicidio di Fonia, sono voci messi in giro dai suoi nemici e i figli assurdamente ci credono. Questo ci porta a pensare che nulla ci può isolare dalle fandonie. Coleman dice di essere un caso semplice perché non è servito leggere i greci per capirlo. Perché i suoi figli non lo capiscono? Perché in una piccola città il veleno provinciale serpeggia e la gente invidiosa lo diffonde. Quindi una bugia una volta detta in questa cittadina di Atena ma anche in tante realtà che ognuno di noi può benissimo avere in mente. Una volta detta una bugia rimane e si innesca un ciclo di vendette. Tanto che l'incidente stradale che ha separato Coleman e Fonia dalla vita viene distorto, bollato dagli agenti come dovuto a un eccesso di velocità, presentato come un omicidio suicidio dai detrattori. In questo libro dove tutti mentono, nella nostra vita dove tutti mentono, mentiamo. Scopriamo che alla fine anche Fonia ha mentito. Lei così vera nella brutalità di un'esistenza venata di dramma che aveva finalmente trovato nella appassionata relazione con Coleman un amico, un amante, un maestro, ha finto di essere in alfabeta quando invece scriveva un diario. Poi in tutta questa storia c'è chi delira, chi vaneggia e anche una chiave anche se non provata nella trama che è Les Farley, l'ex marito di Fonia che è un reduce della guerra del Vietnam che ha subito tutti i traumi mentali dei soldati sopravvissuti al conflitto. C'è una scena in cui al ristorante cinese in cui lei, l'ex combattente viene messo a contatto con i musi gialli che lui odia, non riesce a controllare la rabbia omicida che ha maturato in Vietnam nei loro confronti. È una rabbia che non si spegne, è una pulsione distruttiva che sembra irrefrenabile, che si incanala contro l'ex moglie, contro Coleman stesso poi, che a detta di Nathan Zuckerman ne provocherà la morte nell'incidente. Perché il pericolo dell'odio è che non lo controlli più. Questo libro parla di odio, di amore e soprattutto della facilità con cui la vita può essere una cosa piuttosto che un'altra e della fragilità, della casualità con cui si crea un destino. Tutto può sembrare accidentale quando è inevitabile. Roth è davvero un grande indagatore della società e dell'animo umano e alla fine nega la possibilità di imparare lezioni nella propria vita perché nessuno sa nulla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.